Hello guys and welcome back to my channel, bentornati a tutti su Clarissa B.D.Gerra e oggi voglio farvi la video recensione di un prodotto che ho recentemente scoperto a questa buona e anche se poi mi sono resa conto che in realtà era uscito da un po' però che ho scoperto, ho scangionato con le mie app che vi lascio a fine video le schede per vedere che app sono insomma le mie app per vedere l'inci e non avevo un'inci in malaccio quindi ho trovato la possibilità e inoltre il prodotto che è questo, Pantene Provee Miracles controllo istantaneo del crespo questo prodottino qui parla appunto del crespo che è uno dei miei problemi principali quindi se l'inci non è male, tratta il crespo, diamogli una chance anche perché costa poco, cioè l'ho pagato tipo 4 euro in offerta se non costa poco più l'ho preso da questa buona perché il prodotto si trova sia su internet che in tutti a questa buona quindi parlo sempre io di prodotti molto reperibili appunto del popolo e questa crema senza risciacquo promette di controllare il crespo all'unistante e dona una tenuta flessibile con biotina, estratto di cactus e olio di argan è senza risciacquo da utilizzare sia sui capelli umidi dopo averli lavati oppure sui capelli asciutti per dare un tocco, diciamo togliere il crespo quindi dopo avervi detto che comunque l'inci non è malaccio e quello che promette di fare andiamo al dunque vi straconsiglio di acquistarlo e di provarlo perché è un prodotto che a me personalmente mi è piaciuto tantissimo perché l'effetto è 110 e lode controlla istantaneamente il crespo lascia i capelli profumatissimi, lisci e setosi quindi ve lo straconsiglio, costa poco inoltre e veramente c'è fa tantissimo appunto è un prodotto che ha un piccolo pezzo, faccio il mentire peribile promette di fare quello che dice quindi per me è assolutamente un sì a questo prodotto e niente, per me oggi è tutto spero che questa video recensione vi possa essere utile noi ci vediamo prossimamente su Cladista Beauty Care ma non dimenticatevi di iscrivervi se ancora non l'avete fatto e se il video è stato utile di likearlo ciao e alla prossima volta